Come sta andando con le tecniche Stefano? Molto bene, molto bene. La lettura io vedo già che, anche se sono un pochino allenato, cioè proprio mi è completamente cambiato il paradigma proprio. Una lezione? Mi hai fatta una su sei? Una lezione sì, ma veramente devo dire che proprio, lo dicevo, forse Anna, che ho questa sensazione dell'occhio che mi va da una parte all'altra, questa velocità e poi a volte mi dà la sensazione che se voglio lo rallento, capito? E quando lo riaccelero, riaccelera come se fosse, non so, la manetta di un motorino, non so se lo scooter, è la sensazione che ho è proprio quella. Averla sotto controllo, le fai fare quello che vuoi. Spero che l'obiettivo sia quello, esatto, che il punto di arrivo possa essere quello, effettivamente. I presupposti sono buonissimi, sono veramente contento. E in realtà la questione delle mappe non l'ho ancora sperimentata, perché non sto studiando qualcosa di specifico, però credo di aver detto, forse a te Nicoletta, che me la sono fatta bene per una discussione che ho fatto una quindicina di giorni fa, me la sono preparata in mezz'ora e me la ricordo ancora adesso. Mi ricordo proprio che ho messo la foto dei testimoni, bellissimo. Discussione col giudice, cos'era? Sì, una ringa difensiva era, sì, una ringa con una discussione finale proprio, sì. Bellissimo.